Io do tanta fiducia a Federica e la mia gelosia non è, adesso non è più a 360 gradi, è stata solo esclusivamente su Stefano. Quindi lei, parliamo del gioco perché è successo un episodio, io ci avrei riso se l'aveste fatto con Aviero, Lorenzo, Tommy o tutti gli altri ragazzi. Mi dava fastidio con Lorenzo e penso che questa sia una cosa che nessuno può dare. Però io credo Alfonso che tu non possa telecomandare né Federica né Stefano né tantomeno il grande fratello. Ma no, assolutamente, non ho mai detto questo. Sì, hai provato a telecomandare chiunque, io penso che dovresti essere rispettoso, prima di tutto di Federica, che quando ha 12 anni ormai ti considera, tu hai nei suoi confronti un'influenza paterna, per cui è condizionata a tal punto che per non farti soffrire è in confusione totale. Sì, è così, devi aprire gli occhi, guardare la realtà, la devi rispettare, devi accettarlo. Te l'ha fatto capire in tutti i modi. A direttalo.